Lo sapevi che su Excel puoi tracciare il valore delle tue azioni con un solo clic? In questo video vedremo tutte le informazioni che sono disponibili utilizzando il tipo di dati azioni. E tieniti pronto perché nel prossimo video vedremo tre modelli che ho realizzato per te in Excel per aiutarti a gestire il tuo portafoglio in maniera totalmente automatica. Avremo tre versioni per livelli di difficoltà. Si parte dal primo elementare, che possiamo definire il livello meno del base a base a base, ad un livello intermedio che può andare bene per molte persone, fino al livello più avanzato, dove vedremo un sacco di funzionalità automatizzate che sono veramente una bomba. Ma ora non perdiamo altro tempo e andiamo su Excel. Allora, come ti dicevo, per tracciare il prezzo di un'azione in Excel è sufficiente un clic. Dobbiamo semplicemente utilizzare una funzione, o meglio, un tipo di dato. Dobbiamo dire ad Excel che quel tipo particolare di dato è un'azione, quindi lui saprà che deve andare a ricercare un certo tipo di informazioni specifiche a quell'azione su internet. Possiamo utilizzare questo tipo di soluzione sia tramite Excel per il desktop, che anche tramite la versione browser, quindi Excel per il web, che è gratuita ed è accessibile appunto da qualunque tipologia di browser, anche se non hai l'intero pacchetto Office installato sul tuo PC. Le vedremo tutte e due, ma di fatto la procedura da seguire è esattamente la stessa, quindi non ci sono particolari differenze che ti devo mostrare. Cominciamo dal desktop, comunque. Una volta che ho un foglio Excel aperto, quello che devo fare è semplicemente scrivere il nome dell'azienda della quale voglio tracciare il prezzo dell'azione. Ipotizziamo, ad esempio, che io voglio conoscere il prezzo dell'azione di Apple, per cui vado qui in A2 e scrivo Apple. A questo punto l'unica, e ripeto, l'unica cosa da fare per conoscere il prezzo di Apple è semplicemente andare a dire ad Excel che il testo contenuto in questa cella non è semplicemente un testo Apple, ma deve interpretarlo come un tipo di dato azione. E come faccio ad indicargli che questo tipo di dato deve essere trattato come un'azione e non come un semplice testo? Allora, molto semplicemente, devo andare in alto nella barra delle funzioni, vado su Data, e qui all'interno di Data Types ho queste tre tipologie, Stocks, Currencies e Geography. In questo caso, indico ad Excel che questa cella A2 che è evidenziata è un tipo di dato Stocks, quindi azioni. Nel momento in cui lo clicco, lui connetterà il testo di quella cella al servizio Microsoft legato alle azioni, cercherà un'azione che ha questo nome e quindi mi restituirà tutta una serie di informazioni. Vediamo che cosa succede dopo che clicco. Ecco, vedi che si è aperto questo menu sulla destra, anzi no, non lo vedete che c'è il mio bel faccione davanti, per cui fammelo rimuovere temporaneamente. l'Excel mi ha identificato una serie di azioni che potrebbero essere quelle che io volevo tracciare. Qui abbiamo, vedete, una Apple tracciata al Nasdaq, una al Toronto, una alla borsa di Buenos Aires, e una a quella di Diem. In questo caso, chiaramente, quella che vogliamo tracciare è l'azione di Apple al Nasdaq, quindi non faccio altro che selezionare qui Select, e lui mi ha aggiunto un paio di informazioni. Ecco, vedete che è comparsa questa specie di disegnino di una banca sulla sinistra, intanto magari posso rimettere il mio bel faccione, eccolo qui, così ci vediamo negli occhi, è comparso questo simbolino di una banca e anche questa informazione, tra parentesi, che è sostanzialmente il ticker dell'azienda, cioè il codice identificativo dell'azienda, che è composto da due componenti. La prima è la borsa su cui è tracciata l'azienda, che è comprata e venduta l'azienda, quindi il Nasdaq. Ed Excel lo definisce in questa maniera, X, c'è sempre un X davanti, e poi tre lettere per identificare la borsa. Ad esempio la borsa di Milano sarà X1000, se vogliamo tracciare un'azione che è venduta sulla borsa di Milano. In questo caso appunto Apple è sul Nasdaq, e quindi lo identifico come Xnas. Due punti, quattro lettere, non sempre quattro, questo dipende dall'azione all'azione, che appunto identificano univocamente l'azienda. Quindi il ticker completo che Excel utilizza per tracciare questa azienda è Xnas.a.pl. Se sappiamo già questa informazione in anticipo bene, possiamo direttamente andarla ad indicare, ad esempio in questa cella, Xnas.a.pl. Nel momento in cui io clicco azioni, lui sa già qual è quella che mi deve andare ad identificare, perché gli ho detto anche su quale borsa. Quindi voglio Apple, ma la voglio tracciata sul Nasdaq. Quindi in questo caso mi identifica immediatamente, ecco la stessa che avevamo già selezionato prima. Chiaramente adesso la posso cancellare. E quali informazioni ho a disposizione? Allora, espagniamo intanto la cella. Se vado sopra il disegno di questa banca, vedete che mi compare la mano. Questo diventa un link, un'opzione cliccabile. Nel momento in cui io clicco, mi si apre questa schermata, che mi dà tutta una serie di informazioni disponibili legate all'azienda. Qui mi dice qual è il valore dell'azienda, qual è l'ultimo prezzo disponibile per l'azienda. In questo caso rispetto a ieri appunto l'azione è salita dello 0,63% pari a 1,26 dollari. Mi dice appunto quali sono le informazioni dell'azienda, qual è il nome, qual è l'ultimo prezzo, qual è il mercato, l'orario dell'ultima transazione, il nome ufficiale, il simbolo azionario, eccetera, eccetera. Quindi tutte informazioni che appunto io posso voler attracciare all'interno dell'azienda e questo, senza che le debba necessariamente mettere in un file Excel. Semplicemente appunto andando qua sopra e cliccando sul green della banca le posso visualizzare. Allo stesso modo però posso anche, da qualunque cella, ad esempio, identificare, cliccare qui, su questo più che è comparso, come dice inserisci data, non faccio altro che cliccare sul più e le stesse informazioni che avevo prima mi vengono appunto aggiunte adesso. E le posso aggiungere, posso aggiungere ogni singola colonna di quelle che sono state appunto tracciate precedentemente. Per cui ad esempio potrei, volevo conoscere qual è la capitalizzazione di mercato, spagniamo perché quella di Apple ovviamente è talmente grossa che in una cella standard non ci sta. Posso voler sapere qual è la chiusura precedente, del giorno precedente. Ok, qual è anche magari il massimo di due settimane, il minimo di due settimane, il nome ufficiale dell'azienda, ecco Apple Inc. E poi la cosa che naturalmente, peraltro tutte queste cose poi non ci interessavano granché perché noi ne volevamo tracciare soltanto una, che è questa. Cancelliamo tutto e mettiamo semplicemente il prezzo. Ecco qua. 202, andiamo ad aggiungere delle cifre decimali, ce ne abbiamo due in questo caso, perfetto. Ok, quindi il valore di Apple è 201 e 52. Ma la stessa cosa, come ti dicevo, la possiamo fare anche tramite Excel per il web, per cui ci trasferiamo semplicemente sul mio browser. Ecco, qui magari l'accorgimento che ti posso dare è che se tu di default hai la barra di Excel sul web consolidata su un'unica riga, ti consiglio in questo caso di estenderla, quindi clicca sulla fraccina qui in basso, passa su barra multifunzione classica, ok? A questo punto la formattazione, la tipologia sarà del tutto identica a quella che trovi sul client desktop per Excel. Quindi anche in questo caso andiamo a selezionare Apple, ok? E gli diciamo che è un tipo di dati di tipo azioni, quindi qui sul browser ho la versione in italiana. Quindi una volta che è selezionato azione, guarda come prima vi compare lo stesso menu con cui posso scegliere la borsa di riferimento, in questo caso di nuovo facciamo che sia il Nasdaq, e magari li aggiungiamo anche subito, guarda, li mettiamo anche in Vidia, ok? Anche in questo caso vi diciamo che è una azione, ok? Anche in questo caso diverse borsa a disposizione ma mi interessa il Nalvac, per cui seleziono questa, perfetto, rimettiamo il mio faccione, allarghiamo la cella, ok, perfetto. E poi andiamo come prima da questo menu, questo tastino con il più, ad aggiungere il prezzo, anche per in Vidia facciamo la stessa cosa, ok? Magari vogliamo anche sapere qual è il minimo delle due settimane e il massimo delle due settimane, così sappiamo che il prezzo attuale come si inserisce rispetto all'oscillazione che l'azienda ha avuto nel corso dell'ultimo anno. Ecco qua, perfetto. A questo punto, sfruttando questa semplicissima funzione che abbiamo visto in pochissimi minuti, possiamo costruire un foglio Excel che ci aiuti a tracciare l'andamento del nostro portafoglio ed è esattamente quello che faremo nel prossimo video. Come ti anticipavo, avremo tre versioni del file Excel che ho costruito per te che soddisfano tutte le esigenze, dalle più basiche alle più avanzate. Se non vuoi perderti la costruzione di questo file Excel che è completamente automatizzato, come ti ho detto prima, iscriviti al canale, lo vedremo nel prossimo video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!